. Charlotte Casiraghi incinta con il fidanzato Dimitri Rassam e ma anche con l'ex ga del Malè Charlotte Casiraghi incinta e il fidanzato Dimitri Rassam si regalano una fuga romantica nella campagna francese. . E come mostrano le foto esclusive del settimanale Oggi, spunta anche l'ex di lei, ga del Malè. . Fuga romantica meno la porta in campagna a passeggiare, intrecciando la mano a quella di lei, poi va a prendere le pizze per fare uno spuntino casalingo. . Lui è il produttore Dimitri Rassam, lei è la sua promessa sposa, la divina dell'aristocrazia monegasca Charlotte Casiraghi. . Sono a Barbizon, il paesino francese tutto stradine e scorci pittoreschi, rifugio prediletto della rampolla. . Nota bene, Dimitri porta nella villetta Buenritiro quattro pizze, non due ma su questo torniamo dopo. . Per ora concentriamoci sulla rietta rilassata della coppia più bella del principato. . Diamante da capogiro, finalmente un po di pace, dopo il trambusto delle ultime settimane. . Il primo red carpet fianco a fianco, la notiziona dell'imminente matrimonio, d'estate, in Sicilia. . Lo scintillante debutto da fidanzati ufficiali in abiti da Gransoy Ray al ballo della Rosa, con Charlotte che sfoggiava un anello con diamante da capogiro. . Lo stesso che le balla sull'anulare, è troppo largo il cerchio d'oro, o troppo pesante la pietra. Anche in queste foto. . . Al supermercato a Parigi prima di partire, e a Barbizon mentre porta a spasso il cane. . Non si separa mai da quella promessa di felicità eterna. . Una cena per quattro meno del resto, il suo Dimitri sulla carta è proprio perfetto, è a suo agio nel bel mondo, è un produttore di un certo successo. . Ed è figlio della diva da grande schermo Carole Buche, ma sembra contento anche di queste parentesi di normalità, in jeans e bomber. . Ed è uno capace di adattarsi, Dimitri. . . Ricordate il particolare delle quattro pizze?. . . A un certo punto, nella villetta di Barbizon fanno capolino anche Rafa e Condieresielle e Gadel Malè, che si assomigliano tantissimo. . 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